salve a tutti amici rubacchiotti io sono rickyman e oggi siamo su brawl stars oggi siamo qui perché da oggi è uscita la anche questo mese ovvero febbraio la brawl stars championship ragazzi voi siete contenti io sì se devo dire lo sì abbastanza perché voglio farmare casse e niente quindi se sia così questa prima partita la farò con questo video e le altre le manderò tipo a tagli capirete quando manderò altre partite intanto iniziamo subito e troverete anche se ho vinto ho perso anche dei pezzi di partita anche su tik tok quindi passate anche sul mio tik tok non mi ricordo nemmeno come si chiama ve lo lascio in descrizione che poi non ci ho fatto ancora nemmeno il video riguardo mi dispiace ma ci sono troppe cose più importanti da fare e vabbè ma sono un pro ok scendi ecco lo sapevo eccola come te ne vai di scena ti spengo che poi ho già fatto una sconfitta prima però non volevo era proprio bruttissimo il video oddio quanto faccio caca no raga io non so cosa fare dai no no mannaggia questa è tutta colpa dei trenini che sfiga ragà no davvero questa è una sfiga sfigatissima la gara durante la vittoria come ha fatto non sparare no questo qua è una cosa da hacker vedete non mi ha sparato la ulti ecco non poteva andarci peggio veramente un'altra sconfitta non ne bastava una che pizza beh ragazzi ci vediamo con le altre partite ci vediamo con le altre partite anche cesate qui che